Revoca immediata della pedonalizzazione del centro, dialogo tra associazioni e amministrazione e successivo avvio di una fase di sperimentazione. Queste le richieste di CNA, Confcommercio, Confesarcenti, Adoc, Partita IVA e Ristoratori che contestano al comune di Brindisi la chiusura del centro dalle 20 alle 2 di notte. Un provvedimento che l'amministrazione ha sempre detto di aver concordato proprio con i ristoratori, con questi ultimi che negano. Oggi scopriamo dai ristoratori direttamente che non era così e anzi questa situazione li sta danneggiando ulteriormente. Ha reso la città di Brindisi inaccessibile alla provincia e dai turisti con un danno economico gravissimo. Siamo qui perché chiediamo a gran voce la revoca della chiusura dei centri commerciali, delle vie pedonali del centro cittadino di Brindisi. Siamo qui perché chiediamo ancora una volta un dialogo con l'amministrazione comunale affinché ci sia un piano di rilancio del commercio. Abbiamo chiesto comunque che ci fosse maggiore indicazione, che ci fosse un utilizzo delle navette a titolo gratuito. C'è stato spiegato che tutto questo non è. A detta dell'assessore al turismo, Reste Pinto invece, l'esperimento sta sortendo gli effetti sperati, come dimostrano le foto dei locali affollati che ha postato su Facebook.